Pochi istanti, arriva Aglio, fischio d'inizio del match tra Ischia e Sant'Antonio Abate. Ora ci prova l'Ischia in aria, il tiro verso la porta e il gol! L'Ischia è già in vantaggio al secondo minuto di punizione, Sant'Antonio Abate battuto dalla torre, insidioso. Battuto in questo momento, cross in mezzo, spazza via la difesa, poi il tiro. Riuscito a mantenere la sua posizione con grande tranquillità. Tanto c'è Matra che mette la palla in mezzo a problematiche che riguardano i problemi idrogeologici. Quindi c'è un tiro e Sant'Antonio Abate con il palo di Maravolo. Certamente, Napoli è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, Ischia. Ora c'è Matarese con un sinistro da lontano. Inizia in questo momento il secondo tempo, il numero 3, l'è entrato Salese, poi un errore. Mattera, Mattera, De Luise, De Luise è gol! De Luise tira e raddoppia dalla torre. Buono il passaggio filtrante, Sant'Antonio Abate a tu per tu con il portiere Musella. Il gol accorcia le distanze il Sant'Antonio Abate. Mattera, Mattera, si libera l'avversario, il tiro di Mattera. Simonetti entra in aria, Simonetti cerca lo spazio, il destro a giro. Sant'Antonio Abate ancora in avanti, Chiariello. Simonetti, Simonetti, scivola anche Simonetti. Bello il tacco per Mattera, Mattera e gol! 3 a 1 per l'Ischia. Padin, entra in aria, Padin. Sinistro di Padin, poi grande parata. Martoriello, lungo, lungo e gol! Quarto gol dell'Ischia. Attenzione, Padin, Padin, scarta il portiere, Padin! Quinto gol! Una disattenzione. Ecco, finisce in questo momento il match e si può dare il via alla festa dopo 5 minuti di recupero. Giusto il tempo di darvi il risultato allo stadio Mazzella. L'Ischia abbatte, il Sant'Antonio Abate 5 a 1.